i titoli di oggi caro vita medici di base campo della legalità boschi da salvare ci ritroviamo dopo la pubblicità essere ascoltati trovare vicinanza difesa dei tuoi diritti la assistenza di professionisti in grado di risolvere i tuoi problemi spi cgl ogni giorno a tua disposizione nelle sedi in tutta la provincia e in particolare in questo momento anche con la modalità telefonica spi cgl l'ascolto una risposta ben ritrovati con l'informazione del sindacato dei pensionati della cgl caro vita dalle bollette al carrello della spesa dai trasporti alla salute nel 2022 il caro vita ha ridotto radicalmente il potere d'acquisto degli anziani veneti che ora affrontano l'arrivo dell'autunno con il timore di nuove stangate il sindacato dei pensionati della cgl regionale ha calcolato l'impatto dell'inflazione sulle tasche dei pensionati veneti per i primi sette mesi dell'anno gennaio luglio elaborando i dati dell'istad e dei comuni capoluogo risultato per una coppia di ultra 65 anni veneti la spesa mensile mediana è aumentata di 275 euro per un over 65 solo l'aggravio è stato di 203 euro come noto l'impatto più consistente si registra la voce abitazione prodotti energetici che comprende le bollette di luce gas la coppia anziana ha sborsato in media 213 euro in più al mese rispetto al 2021 mentre il single over 65 ha pagato un rincaro di circa 168 euro mensili da non sottovalutare neppure l'inflazione sul carrello della spesa poco meno di 32 euro euro al mese per i due ultra 65 anni che vivono insieme quasi 19 euro per l'ultra 65 anni solo d'altra parte in italia il veneto è tra le regioni più colpite dall'inflazione con una percentuale record a luglio l'8,5 per cento superiore alla media nazionale che si ferma al 7,9 dunque il caro vita ha inevitabilmente sostituito il covid nella classifica delle principali preoccupazioni dei nostri anziani e non potrebbe essere altrimenti nel veneto più di 360 mila over 65 il 28 per cento del totale ricevono assegni lordi inferiori ai mille euro circa 800 euro netti fra questi il 71 per cento è donna in generale più della metà degli ultra 65 anni risedenti in regione può contare su una pensione uguale o inferiore ai 1.500 euro lordi circa 1.100 euro netti le misure adottate dal governo sono fin qui insufficienti per affrontare l'emergenza l'anticipo del 2 per cento della rivalutazione delle pensioni per il periodo ottobre dicembre 2022 è il riconoscimento anticipato del conguaglio dello 0,2 per cento relativo al 2021 porteranno nelle tasche dei pensionati veneti circa 36 euro in più al mese un'inezia di fronte al livello raggiunto dal caro vita in più anche il decreto legge aiuti bis risulta un provvedimento inadeguato per affrontare l'emergenza determinata dell'impennata inflattiva carenza di medici di base sono 37 le zone carenti di medici di base 13.000 sono gli anziani a rischio assistenza prendendo in esami i comuni più scoperti la situazione generale preoccupa l'ospice gl di belluno anche se nel veneto altre province come verona contano una carenza di medici di base ancora più marcata non possiamo negare che il nostro territorio risenta molto più degli altri di questo disservizio visto che ci sono continui comuni con un numero di abitanti limitato che quando perdono anche un solo medico restano del tutto scoperti e ci sono zone difficilmente raggiungibili in particolare per le persone anziane che fanno dunque difficoltà a spostarsi per trovare un nuovo medico di famiglia il numero di professionisti in servizio nel bellunese è calato di anno in anno passando dai 133 del 2019 ai 119 del 2022 un numero che non garantisce un'assistenza adeguata ai circa 180.000 assistiti residenti in provincia i quali avrebbero bisogno di una ventina di medici in più in tale contesto risulta preoccupante anche la penurea dei pediatri nel territorio se ne contano 19 ma per seguire il bacino di circa 20.750 bambini ne servirebbero 26 7 in più primo campo della legalità in collaborazione con libera in provincia di belluno lotta e contrasto alle mafie ed educazione alla legalità sono punti centrali dell'azione dello spicci gl combattere per la legalità significa concepire un'idea di società sostenuta da principi etici come la solidarietà e l'ugaglianza ma anche impegnarsi personalmente spende e spendendosi in prima persona significa fare dell'onestà della correttezza e del rispetto delle regole i punti essenziali della propria vita 27 giovani provenienti da tutta italia sono giunti a calalzo di cadore nell'ultima settimana di agosto per frequentare il campo della legalità per acquisire nuove nozioni di legalità e riportarle poi nella società per un mondo migliore un grande atto questo che siamo riusciti a portare a termine libera ha visto coinvolti sei volontari dello spi che per sette giorni hanno coaudiato tutte le operazioni del campo il tema di oggi è la data del 25 settembre la chiamata le urne solo nel febbraio scorso si parlava dell'elezione del capo dello stato avvenuta con tutta la rappresentanza politica tutta a richiedere la candidatura di sergio mattarella segno della profonda difficoltà politica e del collasso dei partiti a trovare un nome a trovare una figura da eleggere ora per una scelta irresponsabile il governo costituitosi a febbraio 2021 per far fronte alle difficoltà profonde causata della pandemia questo governo che ha messo in moto un piano nazionale per migliorare le condizioni di vita dei cittadini che ha provato a condizionare la crisi politica internazionale visto il conflitto russia ucraina non trova sostegno dalla maggioranza e in questo contesto incredibilmente precario ci troviamo dentro una campagna elettorale una campagna frenetica e impulsiva per il voto le elezioni politiche del 25 settembre prossimo nel pieno di una drammatica crisi sociale ed economica siamo chiamati ad esprimerci con il voto in uno dei passaggi più complicati e delicati per la nostra storia recente la posta in gioco è più alta del solito infatti dal risultato delle urne dipenderà più delle altre volte il futuro del nostro paese c'è il rischio concreto che la nostra costituzione venga modificata infatti che si vada verso il presidenzialismo che si realizzi questa situazione che va ad acquire ancora di più le disuguaglianze e le disperità territoriali e che sia messa a repentaglio la stessa tenuta democratica del paese le cose che chiamiamo a gran voce alla politica come sindacato dei pensionati sono tante la legge quadro per la non autosufficienza l'assistenza domiciliare adeguata l'aiuto all'alimentazione all'eliminazione delle barriere architettoniche dentro le nostre case la legge sullo gius scuole sulla tassazione vogliamo che sia adottato il metodo della progressività non vogliamo la flat tax il fisco deve creare equità il reddito e la pensione di cittadinanza devono rimanere perché sono misure di contrasto alla povertà pensiamo a famiglie e bambini i bambini nelle famiglie disagiati hanno meno competenze minore accesso agli asili nido e più probabilità di rimanere poveri sulla gestione dei migranti chiediamo l'accoglienza senza distinzione di provenienza integrazione e sicurezza intelligente questi sono alcuni temi che vogliamo ai cui vogliamo risposte le chiediamo alla politica a quella politica che li sostiene alcuni giorni ci separano dal 25 settembre dal futuro prossimo in cui vogliamo ritrovarci essere i protagonisti in questo 25 settembre è senz'altro possibile andando alle urne per esercitare il diritto di voto e anche per quel dovere civico che sentiamo sapendo che la solidarietà è un grande bene sociale il costo del gas e dell'elettricità è il bonus tutti sanno che si possono avere degli sconti sulla bolletta del gas per i nuclei familiari con l'isee inferiore ai 12 mila euro ed in questo momento ogni aiuto è ben accetto questo sconto scatta automaticamente dopo aver fatto l'isee sia per il gas che per la luce elettrica questo importo sale a 20 mila euro per le famiglie con più di quattro figli esiste anche la possibilità di avere questo sconto per gli inquilini di condomini dove il gas sia fornito con un contattore unico e condominiale l'interessato deve sempre fare l'isee successivamente riceverà da arera una lettera in cui si richiede il codice pdr identificativo della fattura questo codice va richiesto all'amministratore del condominio ed infine comunicato ad arera su di un portale e con le modalità indicate nella lettera il processo è un tantino più tortuoso ma alla fine dovrebbe arrivare lo sconto che sarà quantificato in base alla fascia climatica e dal nucleo e dal numero del nucleo dei componenti familiari noi raccomandiamo a tutti di verificare su ogni bolletta se lo sconto è applicato abbiamo sentito come l'ater di belluno abbia deciso di aiutare alcuni condomini condomini in difficoltà nel pagare i costi di riscaldamento il direttore dell'istituto ha comunicato di aver già concesso anticipi per 100.000 euro ha precisato a scanso di equivoci che tutti gli anticipi dovranno poi essere restituiti dagli inquilini dobbiamo salvare i nostri boschi chi di noi ha potuto passare nelle zone alte della nostra provincia si sarà accorto della deturpazione che sta subendo il nostro patrimonio boschivo attaccato ferocemente dal bostrico si tratta di uno dei parassiti più pericolosi per il patrimonio forestale perché in breve tempo causa la morte di moltissimi alberi ogni settimana si nota a vista d'occhio l'avanzamento progressivo di questa pandemia dei boschi non si tratta solo di una perdita economica per le comunità ma anche uno sfregio al paesaggio dolomitico il problema del bostrico non è nuovo ma in questi anni il parassita ha conosciuto una rapida diffusione in seguito alla tempesta vaia che ha causato l'abbattimento di più di 8 milioni di metri cubi di legname quest'anno il fenomeno è diventato ancora più drammatico in considerazione delle temperature e della mancanza di precipitazioni ora la regione veneto ha dato probabilmente con qualche ritardo l'incarico ad un team di ricercatori dell'università di padova il compito di studiare il fenomeno e di raccogliere le informazioni circa la sua diffusione anni addietro la forestale provvedeva a piazzare nelle nelle zone infette trappole con particolari esche di richiamo per catturare ed abbattere il parassita noi ci chiediamo se mentre i ricercatori studiano il fenomeno non sia possibile fare un'azione di contenimento con il metodo già praticato che fare la gente è sempre più esasperata e teme che per il prossimo futuro la situazione non possa migliorare industria in crisi per il costo dell'energia produzioni a rischio o già ferme l'inflazione che corre verso il 10 per cento emergenza climatica e pandemie varie non ancora sotto controllo in questo contesto la speculazione fa sicuramente la sua parte sui prezzi in aumento una delle cause di questa situazione è certamente la guerra in ucraina che ormai da diversi mesi sta guastandoci l'esistenza sembra proprio che non ci sia nessun modo per fermare questa guerra e ristabilire un minimo di rapporti collaborativi tra le nazioni la responsabilità di un conflitto non è mai al cento per cento da una parte non c'è dubbio che la russia abbia compiuto un'aggressione e questa sia del tutto inaccettabile ma nato e occidente a guida americana non hanno mai tentato una vera intesa l'europa purtroppo in questo contesto non ha voce in capitolo perché composta da stati con orientamento molto diverso ci sono stati decisamente anti russi disposti ad una guerra totale altri invece disponibili ben volentieri a firmare un accordo se solo potessero molta gente pensa che sarebbe ora di iniziare a trattare mentre la maggioranza dei media sembrano contagiati da un furore bellicista dobbiamo chiedere ai partiti visto che siamo in campagna elettorale come pensano di uscire da questa miserabile situazione come pensano di restituire la pace all'europa e con quest'ultima informazione termina anche per oggi il nostro notiziario appuntamento come sempre fra 15 giorni grazie a tutti